Ufficializzato il nome del nuovo tecnico Alberto Giuliani, in casa LPR Piacenza è tempo di dar forma al sestetto che affronterà la prossima stagione di Superlega. Mancano ancora le ufficializzazioni ma aggiungono conferme ulteriori riguardo alle voci dei giorni scorsi che vorrebbero Manuel Coscione vestire i panni di regista nella rinnovata formazione bianco-rossa. Classe 1980, il palleggiatore è reduce dall'ottima stagione con la maglia di Verona. Per il ruolo di opposto si punta ad un ritorno di Alessandro Fei e non si tratterebbe del solo ritorno di fiamma visto che anche per la maglia di Libero tutte le strade conducono al goriziano Loris Mania che dopo l'esperienza di Latina potrebbe vestire nuovamente il bianco-rosso già indossato nella stagione 2006-2007. Samuele Papi sta pensando ad un clamoroso ritorno sui propri passi e potrebbe accettare il ruolo di terzo schiacciatore prolungando di un anno la sua gloriosa carriera mentre pare scontata una proposta di contratto per il piacentino Tencati che sarà ovviamente uno dei centrali insieme ad Emanuel Cout. Nessun dubbio circa il ruolo di capitano affidato alla bandiera Aristo Zlatanov. La nuova LPR Volley sembra destinata a vestire i panni di mina vagante del torneo e dopo i foschi presagi delle scorse settimane il pubblico di Piacenza può tirare un bel sospiro di sollievo.